La guerra è insita nell'uomo? Se la guerra è insita nell'uomo probabilmente tutti gli uomini non potranno mai smettere di fare guerre. La guerra non è un qualcosa che è insita nella natura dell'uomo. Difatti vi sono alcune civiltà tipo quelle schimese che non conoscono la guerra. Molti storici fanno iniziare le guerre con la nascita della proprietà privata. La nascita della proprietà privata avviene nel Neolitico quando gli uomini iniziano a coltivare. L'agricoltura ha fra i suoi aspetti negativi la nascita della proprietà privata e di conseguenza la nascita dei primi conflitti tra uomini sedentari e uomini che sono rimasti ancora nomadi. Ciao al prossimo video vi aspetto Grazie a tutti. Grazie a tutti.